fuori dall'ala partiti si lotta per le posizioni con il numero 4 di Oliver Gioieso che va al comando nei confronti del numero 5 di Ora Pine SM poi Olimpico M che adesso si è ripresa e va a anticipare, Ora con l'OM per passare al comando con Olimpico M che sta sfilando su Oliver Gioieso all'esterno Ora con l'OR poi lungo la corda il numero 5 di Ora Pine SM che segue il 4 di Oliver Gioieso mentre all'esterno viaggia anche Odette DL che precede il 7 di Obama Room cavalli che adesso arrivano ai 600 di gara in 44, al comando è sempre Olimpico M su Oliver Gioieso all'esterno Ora con l'OR che stiracchia un po' ma con Antonio si è disteso per tenerlo buono dopo i primi 800 che vanno via in un minuto a 7 decimi marcia adesso di trasferimento con un parziale in 16,7 per Olimpico M che per il momento li tiene tutti lì quando si arriva al chilometro passato in un comodissimo 1,17,7 adesso allunga Olimpico M cerca di farla pesare adesso a quelli che cercano la risalita tra questi in mezzo la pista sta progredendo Orsola Cipriani si attacca all'ultima curva con al comando sempre Olimpico M lungo la corda Oliver Gioieso poi il numero 10 di Odette DL all'interno Olalina con Olimpico M al comando ha spostato Oliver Gioieso lungo la corda Olalina quando siamo in retta d'arrivo Olimpico M prova a staccare nei confronti di Oliver Gioieso che ci prova Oliver Gioieso che va su Olimpico M la trova in crisi e va a vincere Oliver Gioieso nei confronti di Olimpico M poi il numero 1 di Olalina 1.16.5 29.8 a chiudere bella vittoria per Oliver Gioieso 29.06 la sua quota per Roberto Parioli Scudria del Castello allena Andrea Guzzinati per il team Alessandro Bitteleri Guzzinati 29.06 la quota 16.5 Roberto Parioli a chiudere